Rispetto all'accesso libero per queste fasce di età, quindi fino ai 19 anni, ne avevo già parlato con il generale Figliuolo, mi aveva anticipato ovviamente questa sua volontà. C'è da dire che Veneto ha già fatto dei accessi diretti e in questo momento non esiste assolutamente un problema di posti in agenda per vaccinarsi. La macchina sanitaria Veneto è quindi pronta ad applicare la nuova indicazione del commissario Figliuolo che in una lettera delle scorse ore alle regioni ha chiesto di aprire dal 16 agosto le vaccinazioni dirette per la fascia d'età tra i 12 e i 18 anni. Questo significa che per i teenager non sarà più necessaria la prenotazione. La disponibilità di vaccino del resto e i massimi storici, con Zaia che nei giorni scorsi aveva parlato di un milione di dosi per il mese di agosto, le stesse prenotazioni a ben guardare vengono ormai evase in tempo reale. Voglio ricordare che qualsiasi cittadino, in particolar modo mi riferisco anche a questa fascia d'età, ma comunque qualsiasi cittadino può recarsi tranquillamente ai centri vaccinali prenotandosi e lo fa in tempo reale. Vuol dire che oggi siamo nelle condizioni di reventi che si possono prenotare e fare il giorno stesso, al massimo il giorno dopo, la loro vaccinazione. Nelle prossime ore l'allineamento operativo con le ulse del territorio che sono comunque chiamate a un ulteriore impegno, soprattutto in termini di personale. Appronteremo modalità nella riunione con i direttori generali di domani mattina, atte per cui si possa arrivare a un accesso diretto.